Giordano Mazzocchi Duro sfogo di Giordano Mazzocchi sui social? Ecco cosè successo Giordano Mazzocchi è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione dei Uomini e Donne E' stato nello studio del dating show di Canale 5 per corteggiare Nilou Faradati Tra i due, purtroppo, le cose non sono andate come si sperava E di poche settimane fa la notizia che hanno messo fine alla loro storia Sono seguiti messaggi sospetti che hanno incuriosito i loro fan L'ex tronista, però, ha chiarito a più riprese che non ci sarà un ritorno di fiamma tra i due Giordano Mazzocchi questa notte ha postato sul suo profilo Instagram una stories, usando parole molto forti Non è detto che il riferimento sia all'ex fidanzata Il maestro di sci non è solito pubblicare pensieri non suoi o scrivere per ottenere qualche like, di conseguenza il pensiero espresso è di certo riferito a qualcuno L'avventura di Giordano a Uomini e Donne Giordano Mazzocchi ha avuto un percorso a Uomini e Donne fatto di alti e bassi e ricco di emozioni Una volta arrivato in studio si è concentrato su Nilou Faradati alla quale ha cercato di dimostrare tutti i suoi sentimenti, tanto da essere la scelta della tronista a scapito di Niccolò Ferrari A quel punto la coppia è stata travolta dalla notizia che la bella partenopea stava frequentando un altro ragazzo mentre partecipava al programma di Canale 5 E' stata la stessa napoletana a raccontare quanto accaduto Giordano nonostante il dolore per essere stato preso in giro è rimasto vicino a Nilou Faradati La coppia per mettersi alla prova decide di entrare nel cast di Temptation Island VIP Nonostante un po di alti e bassi, alla fine i due sono usciti insieme dal programma Purtroppo la tranquillità della coppia è durata poco, infatti, è di poche settimane fa la notizia che la storia d'amore tra l'ex tronista e il suo ex corteggiatore sia arrivata al capolinea Entrambi hanno confermato tramite i social e allo stesso modo hanno chiesto rispetto per i loro sentimenti Il duro messaggio social di Giordano Mazzocchi Come detto in precedenza poche ore fa è comparso sul profilo di Giordano Mazzocchi un messaggio che ha incuriosito i suoi follower Non è chiaro se il riferimento sia alla sua ex Nilou Farad o qualcun altro Giordano fa riferimento ad un concetto che molte volte ha definito il cardine della sua vita e del suo comportamento, ovvero la sincerità Chissà se quando ha scritto queste parole ha pensato a quanto accaduto dopo la sua esperienza a uomini e donne o se sia capitato qualcosa nel frattempo che evidentemente non gli è andato giù Ciao Ciao